Musica Conferenza stampa di presentazione alla Camera di Commercio di Catanzaro del progetto S2.0 Smart Shopping La mappatura del corso Mazzini realizzata su commissione dell'ente camerale nell'ambito delle attività di promozione e valorizzazione del tessuto economico locale da TEA In collaborazione con il Comune di Catanzaro all'incontro erano presenti il Presidente Paolo Abramo, il Segretario Generale Maurizio Ferrara L'assessore alle attività produttive del Comune di Catanzaro Saverio Loiero, l'amministratrice di TEA Elena Console La mappatura, mediante l'uso di strumenti innovativi, si pone l'obiettivo di individuare le attività commerciali esistenti sul corso Mazzini, cuore del centro storico del Comune di Catanzaro e fornire la conoscenza nel dettaglio di quanto già presente e di poter supportare le istituzioni e i soggetti interessati nel processo di pianificazione e promozione del centro cittadino al fine di attrarre nuove attività e rivitalizzare l'esistente Un web GIS, quindi una piattaforma online completamente open source disponibile su internet alla quale si accede senza nessun problema c'è tutta la mappa di Catanzaro, lo stradario, la mappa Catastale, la foto aerea e ci sono localizzati tutti quanti i diversi esercizi commerciali sui quali cliccando sopra c'è la possibilità di vedere la foto, di sapere a che ora apre come si chiama il negozio, di sapere a che ora apre, di sapere quando è chiuso, di sapere quanto è grande di sapere per esempio se un locale è disponibile o non è disponibile e a questo si sono aggiunte altre informazioni quali, quali sono i servizi presenti tipo la banca, la posta, la questura, tutto quello che in realtà necessita di sapere a un commerciante, a un'attività di impresa e quelli che sono i luoghi da visitare è una mappatura vera e propria dei siti occupati e nonno per stabilire se vogliamo dirla con tutta franchezza una nuova modalità di percepire il commercio in questa zona che voglio ricordare il capologo di regione per cui anche gli imprenditori attraverso la rete di impresa che abbiamo avuto modo di costituire che è gestita dagli imprenditori stessi dovrà tener conto delle proiezioni di questo sviluppo attraverso una serie di iniziative comuni, condivise che possano ottenere finalmente il risultato sperato. Grazie 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 Grazie